Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, martedì 25 luglio. In primo piano l'emergenza climatica con il paese spaccato in due, al nord, nubi fragi, vento e grandinate violentissime che hanno provocato le prime vittime, mentre il sud continua a boccheggiare con temperature torride e anche qui si registrano i primi decessi. Invece per la pagina politica ci sono importanti decisioni da assumere, soprattutto in tema di fisco, di salario minimo e di lavoro in condizioni meteo di emergenza. E poi spazio alla pagina internazionale con le ripercussioni del voto in Spagna. E andiamo subito sul Corriere della Sera che titola proprio sulle elezioni spagnole, duello sul governo in Spagna. Sia Sanchez sia Fejo cercano una maggioranza, freno all'asse Partito Popolare Europeo, destre in Europa. Il premier è il piano per trattare con gli indipendentisti il ruolo di Puigdemont. La Corte Suprema dice che va arrestato. Sara Gandolfi scrive, in Spagna nel caos dopo il voto, sia il popolare Fejo che il socialista Sanchez chiedono di governare e sono in cerca di alleati. Il ruolo del leader catalano Puigdemont che rischia però l'arresto. E intanto la Meloni chiama l'amico a scala, il numero uno di Vox. E poi un'altra vicenda internazionale che scuote il mondo. Israele limita i poteri della magistratura ed esplode la protesta. Davide Frattin scrive della vicenda via libera in Israele alla riforma giudiziaria. Divampa la protesta contro il premier Netanyahu. Corteo da Tel Aviv alla Knesset, che sarebbe la sede del Parlamento israeliano. Per l'opposizione che ha boicottato il voto, la riforma apre ad una svolta autoritaria. I sindacati minacciano lo sciopero generale. 150 catene di negozi hanno già abbassato le saracinesche. I timori della Casa Bianca. A centropagina poi vedete questa fotografia che racchiude tutta l'emergenza climatica. Milano. Tetti scoperchiati, una vittima in Brianza, una donna uccisa da un albero, pioggia e trasporti in tilt. In non tempo flagella il nord con trombe d'aria e bombe d'acqua. A Lissone, in Brianza, una donna è morta schiacciata da un albero e a Milano il forte vento ha scoperchiato i tetti delle case. Allagata anche la metropolitana. Sud, nella morsa del caldo, con picchi di 48 gradi e in Grecia, tra incendi, migliaia di italiani. E passiamo alla Repubblica che invece titola sulle decisioni della politica italiana. La legge delega premio agli evasori, fratelli d'Italia, attacca l'agenzia delle entrate e chiede al governo di negarle il potere di appello quando perda il contenzioso di primo grado. Ma il ragioniere generale dello Stato boccia la riforma. Misure agevolative e indeterminate che producono una perdita di gettito. Il sì del 70% degli italiani al salario minimo, le opposizioni no al rinvio. La gestione dei contenziosi non è imparziale. In un ordine del giorno alla delega fiscale all'esame della Commissione Finanze del Senato, Fratelli d'Italia attacca l'agenzia delle entrate e arriva la proposta di fermare il contenzioso al primo grado se avvincere il contribuente, impedendo al fisco di ricorrere in appello. Il ragioniere generale dello Stato però boccia la riforma. Lavoro, intanto. Il salario minimo piace al 70% degli italiani, anche tra chi sostiene il governo. Le opposizioni dicono no al rinvio della proposta. Si discuta subito. Poi c'è un'altra vicenda, quella del Sant'Anché. Ora i procuratori di Milano indagano anche per truffa allo Stato. E poi la vicenda delle elezioni in Spagna. Un Parlamento senza maggioranza. Fejo e Sanchez cercano alleati. E intanto in Italia Meloni di fronte al dilemma. Il dilemma sarebbe quello delle alleanze europee. Centropagina troviamo Grandine fuoco, l'Italia spezzata in due dal clima impazzito. La stazione ferroviaria di Monza danneggiata dal numifragio. Mentre a destra troviamo le fiamme nel Palermitano. Tempeste in Lombardia, un morto a Lissone. Fiamme in Sicilia. E passiamo alla stampa. Il quotidiano di Torino che titola l'onda nera si è fermata in Spagna. Schlein telefona a Sanchez. Sei un esempio per l'Europa. Con Bandit ascesa dei sovranisti inarrestabile. Il segretario socialista prova a rifare la maggioranza. Fejo ora tocca a noi. Mandato d'arresto per Puigdemont. E poi ancora la giustizia e la costituzione. L'abuso d'ufficio e Calamandrei, Donatella di Stasio. Il doppio 25 luglio d'Italia e Tunisia. E poi ci sono tutte le interpretazioni sul voto in Spagna. Ma a centropagina vedete di fuoco e di ghiaccio. Emergenza clima. Dopo Rodi brucia anche Corfu. Muore una donna a Milano. Ai riporti in tilt. A chi conviene la catastrofe? Mario Tozzi scrive. In The Game of Thrones, nel gioco del trono. L'inverno arrivava sotto forma di tempeste di ghiaccio. Ma nemmeno in quella fiction si sognavano di far scivolare lastre di ghiaccio per le strade di Seregno. E ancora un'altra vicenda. Fa congelare gli ovuli, poi rompe con il partner. La consulta sia al figlio anche se lui si oppone. Le vicende incredibili dell'Italia. E allora passiamo all'avvenire il giornale dei Vescovi italiani. Sicurezza ma alimentare, titola Il Quotidiano. La Premier insiste su una cooperazione non predatoria che fermi le migrazioni. ONU contro la Russia sul grano. Le organizzazioni non governative contestano l'intesa con la Tunisia non garantisce i diritti. Libia. Prove di collusione guardia costa e trafficanti. Dopo il vertice sui movimenti delle persone si apre a Roma la tre giorni della FAO. Necessari 400 miliardi di investimenti contro la fame. Leggiamo allora il richiamo in prima pagina. Anche al vertice dell'Agenzia Alimentare dell'ONU, Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo. Più aiuti anche sulla sicurezza alimentare per contrastare le partenze. E assieme al presidente Mattarella, che ha ricevuto Gui Ternes, critica la sciagurata decisione di Mosca di stoppare l'intesa sui cereali. Le organizzazioni non governative puntano il dito contro il recente memorandum tra Tunisia e Unione Europea e contro quelli con Libia ed Egitto. E la contronarrazione della conferenza di Roma organizzata domenica da Palazzo Chigi. Quei paesi non rispettano i diritti umani. Intanto la Commissione indipendente dell'ONU sui diritti umani in Libia ha raccolto nuove prove sulla complicità da parte delle autorità. Un nuovo dossier che conferma orribili orrori libici come la scoperta a Kufra lungo le piste desertiche verso il Sudan di una fossa comune con venti migranti seviziati e uccisi. Ci sono anche i commenti, bene, ci sono però tre contraddizioni tutte da sciogliere. E poi vedete a centropagina questa fotografia. È il Salento, turismo, un'offerta che non fa crescere. Bassa qualità e scarsa ricaduta. Leggiamo. Siamo così sicuri che aumentare l'afflusso di turisti porti ricchezza in nuove opportunità a tutto un territorio e alla comunità? Non ne sono così convinti sei studiosi che hanno pubblicato sulla rivista Economia e Politica un interessante documento sui limiti dello sviluppo turistico, in particolare nella provincia di Lecce. Il Salento, in questi 15-20 anni, ha sperimentato un considerevole aumento di visitatori. Di questo grande afflusso. Cosa resta per la crescita della comunità? È una domanda a cui si cerca di dare risposta nelle pagine interne ed è molto interessante. Il voto in Spagna. La Spagna è senza governo. Frena l'ipotesi dell'Unione Europea alle destre. La vittoria del Partito Popolare non basta e con Sanchez tornano decisivi. I catalani, che sono gli indipendentisti. Guerra in Ucraina dopo i tiri su Odessa, missili sui cereali vicino alla Romania. Pensate, a soli 200 metri dal confine con la Romania. Una situazione che rischia di diventare sempre più incandescente. E passiamo al Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria che si occupa dei temi di economia. Crisi bancarie. L'Unione Europea apre ai salvataggi preventivi con i fondi di garanzia. Leggiamo anche qui il richiamo. La Commissione Europea apre ad una disciplina meno rigida per la gestione delle crisi bancarie che lascia più spazio all'utilizzo preventivo o alternativo dei fondi di garanzia dei depositi. L'apertura è contenuta in una lettera di risposta della commissaria ai mercati finanziari Mared McGuinness, mandata in questi giorni ai vertici dell'ABI, l'Associazione delle Banche. Nella lettera viene riconosciuto un ruolo maggiore all'uso dei fondi di garanzia dei depositi, per il quale però la Commissione vuole definire meglio i casi in cui questi schemi possono essere utilizzati. Inoltre sta effettuando una valutazione della disciplina sugli aiuti di Stato per le banche. A centropagina questa fotografia le ferrovie scommettono sul business dei treni storici. Il rapido degli anni Sessanta è stato restaurato e rilanciato da ferrovie in chiave turistica. Ancora due titoli. Materie prima, corsa in dieci tappe per le nuove miniere. C'è il protocollo caldo e lavoro, oggi tocca alle parti sociali. Naturalmente si parla della bozza preparata dai vari ministeri. E passiamo al giornale La Gazzetta del Mezzogiorno, giornale di Puglia e Basilicata. Questa è l'edizione nazionale. Caldo e schianti, strage killer, la rabbia per i quattro morti di Cerignola. Oggi i picchi di 45 gradi. Da domani si respira, speriamo naturalmente. Continua l'emergenza incendi in Grecia dopo rodi, allarme a Corfu, turisti evacuati, fiamme anche in Salento. E poi l'operazione di ieri che ha portato a 82 arresti nel Foggiano, traffico di coca, patto tra i clan e le mafie sono ormai strutturali, dice il procuratore nazionale Melillo. Poi una vicenda tutta pugliese con il trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali. Nessun assegno, la Regione rinvia nota di Emiliano, governatore, che attacca il suo predecessore, o meglio con una lista di Emiliano che attacca il predecessore di Emiliano, Nichi Vendola. E passiamo all'edicola del Sud, altro giornale di Puglia e Basilicata. Questa è l'edizione di Bari. Trattamento di fine mandato. Adesso Emiliano ordina il dietrofront. Schlein minaccia espulsioni. Il Presidente invita i consiglieri a rinunciare alla buona uscita. Centropagina due fotografie. La scia di sangue sull'asfalto. Quattro vittime a Cerignola e l'Asset, l'agenzia regionale, proprio per la sicurezza stradale, lancia l'allarme. Incidenti mortali in crescita. E poi, raffica di arresti nel Foggiano. L'antimafia esulta. La società, che è l'associazione mafiosa tipica dell'area, ha le ore contate. Decine di persone in manetta. E con l'operazione Game Over suonerebbero 82 le persone arrestate. Il resto del Carlino, il giornale del quotidiano nazionale. Questa è l'edizione nazionale. Nubifragio a Milano. Muore una donna. Schiacciata da un albero, divelto dalla tempesta. Bloccata la metro. Aereo danneggiato dalla grandine in volo. È costretta ad atterrare. Emilia Romagna. Strage di pannelli fotovoltaici. Oggi il protocollo contro l'emergenza caldo sul lavoro. Prevista la cassa integrazione. E a proposito del caldo, che sviluppa gli incendi. Odissea di fuoco. La Grecia brucia. I drammatici racconti dei turisti salvati. E ancora i giornali del gruppo La Provincia. In questo caso è la provincia di Sondrio. Il titolo principale. Fuggiti da rodi in fiamme. Abbandonati a noi stessi. La storia di una famiglia di castione riuscita a rientrare in Italia. Il direttore del villaggio continuava a ripeterci di stare tranquilli. Eppure sentivo dentro di me qualcosa che mi diceva che la situazione di lì a poco sarebbe degenerata. Bastava poco. E quella che, almeno in origine, doveva essere una settimana di relax a rodi sarebbe finita in tragedia. A salvare Marina Loro e Oscar Mozzi, coniugi di castione Andevenno, in vacanza con i figli Nicole, Rebecca ed Enea, è stata proprio la loro tempestività, nonostante le finte rassicurazioni. Quando hanno iniziato a bruciarci gli occhi ho mangiato la foglia e ho capito che doveva mandarcene al più presto. E così è riuscito a mettere in salvo se stesso e la sua famiglia. Provincia di Lecco, la federazione gioco calcio, alleata del Lecco, Altar, un fronte unico contro la Lega di Serie B. Dal Consiglio federale ancora nessuna decisione allo stadio, i nuovi fari. Si parla di calcio con la promozione del Lecco che è stata rimessa in discussione, anzi è stata addirittura negata. E allora il ricorso Altar. Leggiamo la FIGC contro tutti e per la prima volta nella storia sportiva contro lo stesso collegio di garanzia, ovvero il massimo grado della giustizia sportiva italiana contro il quale il 2 agosto Altar la FIGC sarà schierata insieme a Lecco per sanare una struttura evidente a tutti, tranne che ai giudici dell'Alta Corte. Non è qualcosa di banale o di scontato e la Lega di B si costituirà nel procedimento sempre a favore dell'Ecco. Però non c'è stata una presa di posizione conseguente a tutte le parole positive espresse nei confronti dell'Ecco prima e dopo il Consiglio federale di ieri, ovvero nessuno ha parlato di riammissione in B in sovrannumero dell'Ecco. Unica vera notizia che i tifosi blu celesti si attendevano dalla seduta della FIGC. E passiamo a Como, sempre sui giornali del gruppo La Provincia, ancora si parla di Palasport, piscine e autosilo, Mugio, il piano del comune, il progetto del nuovo centro federale consegnato a Fontana in Regione. E passiamo all'Ecco di Bergamo, qui si parla del nubifragio isolate 1500 persone per una frana in alta van brembana, in altre zone tetti e alberi divelti, case inagibili, treni sospesi. Tetti divelti, case inagibili, alberi caduti o sradicati e verso le 20.30 la terra rigonfia d'acqua ha prodotto una frana a isola di Fondra che ha isolato l'alta valle brembana. Anche ieri è stata una giornata di maltempo pesante nella nostra provincia. La frana in un tratto di provinciale poco oltre il bivio per Roncobello con cinque paesi che ieri a tarda ora erano ancora isolati, isola di Frondra, Branzi, Carona, Valleve e Foppolo per circa 1500 residenti. Ma in questo periodo sono tanti anche i villeggianti in particolare a Carona e Branzi. Un primo temporale nel pomeriggio ma che non ha lasciato particolari segni sulla viabilità o su torrenti e fiumi. È stato il nubifragio verso le 20 invece a creare i danni. E passiamo al messaggero, il giornale della Capitale che titola AFA e vento, prime vittime, piano caldo per i lavoratori, colpi di calore, nubifragi e virus, ospedali intassati e anche tre morti. Cassa integrazione e orari flessibili, il governo lavora al decreto. Più pause nei campi. Le elezioni in Spagna. Fejo e Sanchez sfida per governare e la Spagna ora teme un nuovo voto. Per la maggioranza servono gli indipendentisti. E poi sgravi per le aziende che assumono i giovani net senza studio e lavoro. In arrivo un taglio delle imposte fino al 60%. E ancora la tutela necessaria dei nostri diritti sulla rete e le nuove minacce. Ruben Razzante scrive quando si parla di cultura digitale si allude quasi sempre alle conoscenze e alle competenze sviluppate nel tempo grazie all'avvento delle tecnologie. Si ritiene indispensabile conoscere a fondo il funzionamento degli strumenti digitali al fine di orientarli verso un uso costruttivo e attento al benessere individuale e collettivo riducendone al minimo i pericoli. Questa visione basica e nozionistica della cultura digitale si rivela tuttavia sempre più inadeguata ad interpretarne la complessità. Scuola c'è la deroga esami di riparazione fino all'8 settembre. Il Ministero debiti formativi da colmare entro il 31 agosto ma si potrà andare oltre. Il Ministero dell'Istruzione aveva invitato le scuole a svolgere gli esami di riparazione entro la fine di agosto visto che entro il 31 gli istituti devono inviare gli esiti delle prove attraverso la piattaforma online così come è previsto dalla norma originaria. Ma ora con una nota del Ministro Valditara si ribadisce anche per quest'anno la possibilità di far slittare i tempi all'8 settembre. E poi notizie che vengono dal campionato mondiale di nuoto. Italia nuota nell'oro e anche nell'argento. Mondiali CECCON vince i 50 Delfino Martinenghi secondo nei 100 Rana. E passiamo al mattino il quotidiano di Napoli e della Campania. Lavoro con il caldo record sia turni e orari flessibili. Incontro oggi al Ministero con le parti sociali per definire un protocollo. Emergenza ospedali, pronto soccorso presi d'assalto, tre vittime per l'AFA. Non accenna a placarsi l'ondata di caldo record che sta rendendo difficile la vita e le condizioni di lavoro soprattutto al centro sud. C'è disponibilità a turni e orari flessibili per definire un protocollo comune. Ospedali presi d'assalto si registrano le prime tre vittime. E poi a centropagina vedete gli effetti del maltempo nel centro nord. Buffera Milano, paura in volo, i danni per la grandine riportati dall'aereo diretto a New York, costretto all'atterraggio a Fiumicino, a Roma. Una donna intanto è stata schiacciata da un albero. In Grecia le isole devastate dai roghi. E poi Nisida, una delle isole della Campania, tra stranieri e maggiorenni, oltre Marefuori. Risse alta tensione nell'istituto minorile partenopeo il nodo affollamento. Molti detenuti vengono dal nord. E ancora Napoli l'inchiesta e il giallo del pizzaiolo giù da un palazzo svolta dal cellulare. E chiudiamo con il quotidiano del sud e l'altra voce dell'Italia, il giornale diretto da Roberto Napoletano che nel suo editoriale di prima pagina titola «La spaccatura spagnola e la lezione italiana di Prodi». L'estrema destra pretende due perdente e due non vincitori europeisti come Coppi e Barteli in Spagna e il progetto paese che serve al PD per tornare in gioco in Italia. L'unica soluzione di governo spagnolo è ripetere il modello della maggioranza che sostiene in Europa Ursula von der Leyen, mettendo insieme popolari e socialisti, entrambi peraltro molto europeisti. Il punto è che le tifoserie dei due schieramenti sono accesissime e rende tutto più complicato. In Italia, da Cesena, dopo un lungo tempo, Prodi è tornato a parlare al PD e ha detto che non si risponde a problemi così complessi inseguendo slogan e derive populiste altrui, ma piuttosto facendo l'agenda in casa e fuori del progetto paese, parlando agli italiani e trascinandosi dietro gli alleati, come ha fatto lui due volte, che sono anche le uniche nelle quali quest'area politica del paese ha governato vincendo le elezioni, non per investiture arrivate dall'alto o dettate dallo Stato di necessità. E poi Mediterraneo allargato, strategia italiana, lotta ai trafficanti e dialogo fra pari, la conferenza emigrazione e sviluppo e il processo di Roma. Lì a Romagno scrive la conferenza internazionale di Roma su sviluppo e migrazioni che domenica la Farnesina ha riunito i leader di quasi tutti gli stati della sponda sud del Mediterraneo, gli stati europei di primo approdo del Medio Oriente e del Golfo, alcuni partner di Sahel e Corno d'Africa e i vertici dell'Unione Europea e delle istituzioni finanziarie internazionali segna il primo passo del cosiddetto Piano Mattei. E poi notav e notap le elezioni da imparare per non ripetere più gli stessi errori, le inspiegabili battaglie contro il progresso, ne scrive Ercole in calza. Penso che sarà opportuno raccontare le azioni e i comportamenti che hanno caratterizzato per molti anni l'approccio negativo di politici, di istituzioni e di cittadini nei confronti di determinate scelte strategiche che poi si sono rivelate essenziali e determinanti per la crescita del Paese. Comincio con due atteggiamenti critici nei confronti della AV. E ancora l'ultimo titolo, il traffico marittimo del sud più 41%. Lo sviluppo dell'economia del mezzogiorno deve guardare al mare. Soltanto rafforzando i traffici marittimi e potenziando le reti portuali del sud sarà possibile rendere competitiva e attraente l'economia di questi territori. Ed era questo l'ultimo titolo del quale ci siamo occupati nel corso di questa rassegna stampa che torna domani, stessa ora, stessa rete. Per il momento non andate via e restate con i nostri programmi.